Ciao a tutti, sono Cristian Bruni della Davide Bettella Drum School, sede di Venezia Maestre e Budapest. Quello che vedremo oggi è un esercizio tratto da questo stupendo metodo, ovvero Advanced Phlegm in Modern Applications volume 2 di Davide Bettella. La cosa interessante che questo esercizio prende due rudimenti classici indispensabili per l'enciclopedia di qualsiasi batterista, ovvero avremo il Patafla-Fla che lo vedremo in forma ternaria dove si svilupperà all'interno di una misura di 4 quarti, contro il Flam Drag che invece lo vedremo in forma binaria dove si svilupperà all'interno di un tre quarti. E adesso vedremo come si fa il tutto. Grazie per la visione, ciao a tutti!